ragazzi buongiorno e buona giovedì ore 13 41 il punto vendita dovrebbe essere chiuso ma siamo ancora più aperti perché sto aspettando uno scarico perché sto aspettando anche una cliente che mi ha detto che doveva passare e che quindi manuale aspettami ed eccomi qui perché perché oggi giovedì nel pomeriggio saremo chiusi quindi serviva qualcosa di urgente e allora stiamo aspettando nel frattempo vi volevo far vedere condividere con voi la bellezza di questa felpa che ci è arrivata nella versione nuova felpa in cotone con la lavorazione tecnica quindi non felpata ragazze ma morbida corposa soffice fantastico il tessuto di questa serie qui stiamo lavorando tutto quanto il fitness che abbiamo a disposizione in questo periodo al negozio in una marea di colori il modello che sto indossando io è disponibile nella versione marrone e cioccolato nella versione latte e ovviamente nera come la mia taglia unica rimane molto morbida ragazze ma quant'è carina la felpa ultra comoda se la vado a tirar giù tutta sfruttando anche il cannolè che magari me la tiene anche leggermente più accostata mi arriva a metà cia pet non a tasche non a zip ma che boh vabbè belli però comode il tessuto è strepitoso ragazze incredibile coordinata con il jeans skinny coordinata con la maglia in magliena di viscosa la versione è quella con il buchino la colorazione è un cipria ce l'abbiamo disponibile al momento nella versione dal magazzino mi hanno detto che qualcosa dovrebbe ritornare di nuovo disponibile di questa magliettina è veramente comoda perché rimane sagomata quindi perfetta da coordinare sotto le felpe ma anche sotto una giacchettina allora bambole quest'oggi vorrei comunicarvi che ieri finalmente sono riuscita a fare la mia prima diretta sul canale di youtube dove vi chiedo cortesemente ragazzi mi servono 132 follower ancora mi mancano per poter fare le dirette sul canale di youtube dal telefono e quindi proprio come le storie che faccio a voi per poter fare una diretta e portarvi in giro per il negozio insieme a voi e insieme alle clienti che ci seguono su youtube fare delle storie e vedere i capi insieme quindi cortesemente se mi segui qui su facebook o su instagram e e ancora non mi segui sul canale di youtube fallo immediatamente perché molto importante per sbloccare una marea di funzioni per potervi fare video e quant'altro a questo punto ragazze rgn la versucce su instagram facebook e mi raccomando anche su youtube seguimi metti il segui così mi si sbloccano le funzioni posso fare anche da lì le dirette da manuela è tutto a domani ci vediamo ciao ovviamente domani ci vediamo pure con quello che abbiamo scaricato a breve adesso nel pomeriggio ci vediamo ciao ciao